Stamattina presso il Parco della Scienza presentazione ufficiale della Teramo a spicchi con pagine che affronterà per il terzo anno il campionato di basket serie B. I ragazzi del presidente Fabio Nardi, accompagnati dallo staff tecnico e dirigenziale, sono stati ospitati dal sindaco D'Alberto e dall'assessore Falini all'interno della sala consigliare. Tanto entusiasmo, consapevoli di dover competere con roster più attrezzati. Per il presidente Nardi la favorita è la compagine rosetana che per investimenti e per storia ha qualcosa in più rispetto alle altre. Coach Andrea Gabrielli ha presentato il suo staff, poi ad uno ad uno i ragazzi hanno confermato ed espresso le volontà di mantenere alto il nome del basket a Teramo. Prima dei saluti il dono per il sindaco Gian Guido Galberto con la casacca numero uno e per l'assessore Falini che ha ricevuto il borsone ufficiale della TASP Teramo.